Battute finali dei campionati di calcio dilettantistici. In Serie D il cartigliano già salvo va a trovare la Luparense impegnata in una quasi impossibile rincorsa al terzo posto. In eccellenza occhi puntati sul derigo di Schio per il play out tra giallorossi e colonia veneta con ingresso gratuito allo stadio. In promozione continua il testa a testa tra la Rocca Altavilla e Marosticense mentre il derby Rosà-Eurocassola serve solo per l'onore territoriale visto che i cassonesi hanno già vinto il campionato. In prima categoria Virtus Romano e Tezze sul Brenta si giocano la salvezza diretta. Partite infuocate in seconda. Nove col Ceresa per decidere chi sarà la capolista. Alla Stella Azzurra Sant'Anne invece manca un punto per laurearsi campione.